buongiorno allora dopo una gestazione infinita decido di parlare di questo testo un testo enigmatico molto molto bello molto molto complesso forse anche troppo allora sono cascato nella trappola di di questo volume e di un tema che io credo sia centrale va bene ok per i miei interessi e chi se ne uno potrebbe anche dire però anche un po centrale anche della contemporaneità in più hans belting l'autore è uno storico di chiara fama ed è veramente un punto di riferimento e qui c'è anche un breve estratto della importantissima biografia e carriera dell'autore che cos'è facce una storia del volto allora io vi dico prima che cosa mi aspettavo e poi vi dico quello che ho trovato mi aspettavo il titolo abbastanza efficace da questo punto di vista una storia del volto però mi aspettavo declinato principalmente rispetto alla storia dell'arte che poi l'ambito di riferimento di hans belting che è uno storico dell'arte è un critico d'arte mi aspettavo quindi una dissertazione su come la rappresentazione del volto sia stata affrontata nelle varie epoche insomma della storia dell'arte ho trovato questo e altro cosa c'è d'altro beh c'è forse la parte più interessante che io banalmente avevo dato un po così per scontata boh diciamo l'avevo immaginato forse in maniera più più didascalica il libro no invece che cosa c'è c'è naturalmente tutto questo c'è la volontà di partire nell'osservazione della rappresentazione del volto nell'analisi della rappresentazione del volto cercando di non solo di descrivere banalmente quali sono i primi ritrovamenti che avevano come obiettivo quello di ritrarre appunto la faccia ma anche di indagare criticamente e quindi anche psicologicamente l'intento con il quale l'artista il disegnatore lo scultore ha affrontato questo tipo di missione cioè quella di rappresentare il volto e da qui naturalmente si aprono delle delle riflessioni delle idee molto interessanti sia sul volto in quanto medium in quanto quindi strumento mezzo espressivo sia sulla rappresentazione di un altro strumento di rappresentazione del volto stesso cioè quindi come rappresentarlo e non si tratta banalmente è ovvio solo di tecnica cioè se preferire la scultura o il dipinto e via dicendo ma si tratta anche di capire davvero ciò che si vuole rappresentare l'introspezione psicologica la mera estetica la maschera ci sono diversi capitoli naturalmente dedicati alle maschere e al loro significato oppure come dicevo un po' prima l'interiorità sono settimane che sono alle prese con questo testo che è sicuramente molto impegnativo la bibliografia è di almeno non lo so 30 o 40 pagine dicevo scusate sono un po' distratto sono alle prese con l'altura di questo libro da diverse settimane è davvero stimolante però è un libro molto complesso molto molto complesso ci sono e è ricco ricco di osservazioni io a un certo punto della lettura ho per fortuna o purtroppo imbroccato una linea di osservazione o di lettura ecco diciamo così di solito per gli sciagurati che guardano questi videi sanno insomma sapete che quello che cerco di fare io un po' è lasciare una traccia di quello che mi ha lasciato un po' il libro dire magari due idee spesso magari un po' confuse e senza grandi obiettivi insomma non è che ci sia un piano così strutturato però di solito succede un po' questo non è tanto il riassunto del libro in sé per sé non è neanche l'opinione o la recensione ma è l'idea è magari provare a condividere una riflessione che il libro ha generato di solito queste riflessioni è chiaro che nascono con la lettura del libro però spesso anche alla fine uno dei motivi per cui ancora faccio queste chiacchierate solitari o chiacchierate alla videocamera qual è? proprio quello di avere un po' di tempo successivo alla lettura per creare, per pensare, per provare a trovare un momento di introspezione e anche di sintesi di questo libro non il riassunto ma appunto una riflessione, uno stimolo questa volta con questo libro così ricco di stimoli la lettura, l'idea non è arrivata alla fine ma è arrivata già all'inizio anche perché avevo già passato attraverso altre letture avevo già avvicinato questo tipo di tensione cioè il provare, ed è quello che ho fatto lungo tutta la lettura il provare a declinare queste idee riferite al volto, alla faccia all'architettura e alla sua esteriorità tutto il libro è ovvio, è basato su questa ambivalenza tra fuori e dentro tra aspetto e tra significante e significato anche se vogliamo tra aspetto e contenuto e via dicendo e anche sul volto come specchio dell'anima o specchio degli altri o anche naturalmente il grande dilemma della rappresentazione del volto tutti questi spunti, tutte queste osservazioni hanno trovato ed è stata una cosa veramente sorprendente nonostante la loro eterogenità, la loro ricchezza anche la diversità di tutte queste riflessioni sviluppate nel libro riguardanti il volto la faccia hanno trovato naturalmente una rappresentazione nell'architettura il prospetto come faccia di un'architettura la differenza tra l'aspetto esterno di un edificio e l'aspetto interno la necessità che noi abbiamo anche come società di occuparci molto o moltissimo della conservazione o del restauro della faccia dell'edificio, del suo aspetto esterno trascurando spesso e volentieri quelli che sono i problemi interni dell'edificio più strutturali che sono all'interno non solo intesi come all'interno degli spazi ma magari all'interno delle murature sono problemi che non trovano una soluzione perché non c'è una soluzione immediata molto più facile pensare all'aspetto esteriore lo stesso Loos ribadiva come all'architetto fosse concesso concentrarsi sull'interno delle abitazioni delle architetture pensandole anche come cosa propria ma la facciata esterna dell'edificio non a caso si chiama facciata almeno nella nostra lingua ma non solo nella nostra e le attinenze con faccia e via dicendo dal punto di vista semantico ci sono in tantissimi altri idiomi beh dicevo Loos ribadiva anche come l'elevation cioè la facciata esterna il prospetto esterno non fosse di proprietà concettuale dell'architetto ma fosse della città e quindi andasse naturalmente anch'esso progettato non in relazione alle pro ai propri desiderata ma in relazione evidentemente al contesto quasi a ribadire come l'aspetto esterno la faccia il medium verso l'esterno di una abitazione dovesse appunto non per forza ecco rivelare i sentimenti interni le problematiche interne o le idee interne ma essere conforme alla a ciò che la città si aspetta da quell'edificio no? sia in termini di decenza sia in termini di qualità estetica sia in termini di sobrietà forse visto anche la radice mito e l'europea di questa idea il libro è bellissimo anche per la fluidità con cui da un ambito di arte antica si passa a un concetto di arte medievale sapendo evidentemente scegliere puntualmente alcune tematiche altrimenti da 350 pagine si arriverebbe tranquillamente a 3500 e direi che 350 sono già sufficienti in quanto a contenuti dicevo il libro riesce fluidamente ma in modo comunque efficace a passare di epoca in epoca seguendo un iter cronologico critico evidentemente senza trascurare ciò che è stato poi il valore del volto della faccia anche nelle ultime espressioni artistiche comprensive non solo dell'arte della pop art o delle altre manifestazioni contemporanee ma anche dell'introduzione è ovvio della fotografia e anche della pubblicità come appunto il volto rimanga medium ma un medium che è finalizzato alla trasmissione di altre informazioni Hans Belting facce una storia del volto ho temuto a lungo di non essere neanche nelle condizioni di poter affrontare questo tipo di video forse non ce n'era e la necessità e neanche forse la capacità da parte mia ora che mi avvio alla fine devo dire che tutto sommato sono abbastanza contento di quello che ho detto sul libro mi sembra una montagna la cui lettura è già stata molto complessa riassumerla o trarne degli spunti alternativi e più forse evocativi degli slanci verso esterno era veramente una missione troppo ardua per le mie possibilità un caro saluto a 11 minuti e 16 secondi vi confermo il mio più caro saluto a presto a presto